Benvenuti ragazzi qui su Pirlas V per l'ora della verità Oggi decideremo qui sul campo chi è più forte a calcio tra italiani e Maranza Un saluto da Pierino, capitano dell'Italia e tra Ibrastu Capitano dell'Maranza 7 contro 7, primo 7 contro 7 tra italiani e Maranza nella storia di Youtube Italia E adesso faccio entrare la mia squadra Questa è l'Italia più o meno Questa è l'Italia Ma perché fai entrare prima gli italiani? L'Italia e l'Italia è una figa di musulmane Nooo Ora voglio i miei Maranza in questo momento Per favore entrate Facci vedere il tuo team Guardate come stanno entrando Mamma mia Siamo sempre stati eleganti Tutto il razzismo che abbiamo avuto contro di noi ragazzi non è vero Noi Maranza siamo educati Dai il cellulare per favore Nooo Bene Prima un po' di dissing come ai vecchi tempi Ma scusate ma i cammelli Non devi proprio parlare di cammelli Perché il primo ad avere un cammello in casa sei te Nooo E non capisco cosa tu ci faccia con gli italiani Siete come la nazionale francese Ci sono più neri in squadra che bianchi Dai Naturalizzato dai Ssssssssssssssss Ma beh lascia Aspetta questo Aspetta questo Su Cammello ma comunque siete come i film italiani l'umorismo non si capisce un cazzo ma questa era di mia sorella cazza fatti due domande per la rito sorella ma sta, sta infatti mi diceva aiubino col pistolino ma patemi capire Voi a Maranzo avete tutti il suo parrucchiere o fanno sempre parte della vostra famiglia? Preso col pollo fa schifo Cuscuso non ti dico No 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 Questo io non lo faccio ragazzi Parla di quello che mangia pizza con l'analazzo Non dovresti neanche essere italiano Facciamo parlare il campo? Facciamo parlare il campo? Adesso facciamo parlare il pallone Facciamo parlare il campo Adesso la parola ai due coach di questa sfida E poi iniziamo con il match Ragazzi io sono fiducioso in voi Quando vi guardo vedo Maranza Borse di signore vecchie Ma io sono sempre fiducioso di voi Ragazzi quest'oggi li mandiamo al loro paese Anche a te ti dovremmo rimandare al tuo paese Ma qual è il paese di Maranza? Hanno un paese o... Sono ovunque In Maranza vengono sempre nei miei paesi bassi E ragazzi importantissimo Portiamoci il pallone a casa Portiamoci il pallone a casa E portiamoci il mondiale che ci siamo fatti perdere l'ultima volta Ok ragazzi Sì, 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 Mi chiamavano Maranza Mi chiamavano Maranza Mi chiamavano Maranza 3, 2, 1, GO! Tirino, attaccato da Ibra che riporta via il pallone Va bene, va bene, va bene, palla nostra Fallo e sarà calcio di punizione per Maranza Fatta Abdul Il tiro La palla che accarezza la palla va sul fondo La prima, vera occasione per la palla L'impiega per Samuel Lascia lì, le mancino Approvato è il numero 9 italiano Con Abdul Lato corto dell'area di rigore Fatta il tiro La palla che di nuovo accarezza la palla va sul fondo Vediamo Issac che rimette nel gioco per Samuel Prova il tunnel E poi regala la parola Abdullà, tiro a te Abdullà, il vantaggio di Maranza Vietrificando Issac Grave però l'errore di Samuel Da questo ragazzo il Maranza, vai Vai, andiamo Sono stanco Storno indietro, storno indietro Il nano con il suo mancino pericolosissimo Gnabri Cossino in mezzo Ashraf capisce tutto Attenzione Che fa come Ragnar Il Ragnar marocchino E poi però non si intende il tiro Addirittura Ha provato la conclusione Noi Maranza rischiamo Samuel Cerchi il centro-cappo E se ne va meravigliosamente Il pilota palla verso la metà-cappa Poi forse seduce un fallo Non per l'arbitro Allora i Maranza riconquistano Con Abdul Ancora i Maranza La sovrapposizione di Mohamed Poi il destro Il tiro La palla che accrezza Le palla va sul fondo Grandissima occasione però Questi errori non si fanno Questi errori Questi errori non si fanno Basta Pierino conquista tutto Il tiro E Pierino va vicinissimo Al pareggio Vai su Con il Maranza Che batte in fretta Con Mohamed Il tiro Mohamed E' un grandissimo gol Stavolta accorcia Stavolta accorcia le distanze Funziona l'asse Pipega Samuel Ed è 2-1 Quindi per Sempre per i Maranza Stiamo vincendo Di cosa parliamo Rimontiamolo Prova di uscire l'Italia Ma capisce tutto I Maranza Prova di partire con Ibra Mohamed Abdul Limita nell'area Abdul Vincendo in palla Il tiro Isak Mostruoso E poi ancora Ibra Ma che parata ha fatto Sembrava Vicario Gnabry non mette la gamba Allora Il tiro Isak Poi il palo Tiro La Ibra Vanno Solo 3-1 Con il Sofjan Ci sono delle proteste Davanti degli italiani Ragazzi a fallo Mi ha tirato un pestone No dai però Che falle Ragazzi Vartene ha piangelato Dove è annullato Fortuna dei principiati Si rimane quindi sul 2-1 per Imaranza Vediamo Pierino con un controllo da Ballerino Riesce a servire Le pipiga Botta sicura Quella respinta Ma si rimane lì in avanti Attenzione Samuel Triple anche le portine Samuel E poi finisce sul fondo Ma è uscita solo Ma è uscita Pino Pina Le grossine e mezzo Per Mohamed E poi Yasharaf Vediamo il tiro E la palla che finisce fuori Deviato però sarà corner Samuel Mamma mia cosa sta facendo Calcio di posizione Fallo dei Maranza Da il pimpio nel suo mancino Fallone basso Versambo Il trattenuto E sarà calcio di rigore Nettissimo la calcio di rigore per l'Italia Protestano tutti In panchina di Maranza È rigore Basso io Vecchio Stiamo sotto Ci penso io Stiamo sotto 2-1 Ci penso io Ragazzi Ci penso io Ci affidiamo a Isaac Isaac vediamo L'Italia ha la possibilità di pareggiare Il tiro Isac Grandissimo gol L'ha spiazzato Esulta È 2-2 Italia 2 Maranza 2 Fredissimo Isaac sul dischetto Gestisce palla Ancora L'Italia che prova ad andare con il nano Grande giocata Attenzione Pipega il nano Pipega Pipega Pollo nel torrente Mamma mia che gol 3-2 Italia E finisce anche il Primo tempo E i Maranza muti Vieni qua Vieni qua Il nostro mister c'ha qualcosa da dirci Per caricarci Qualche misce a giurare Credo che questa partita ce la possiamo portare a casa Non ho paura di niente e di nessuno Loro fanno non tanto dei Maranza Ma devono avere paura del loro culo bianco Allora raga L'energie Ok Bisogna saperle dosare Ok Non le stiamo dosando bene Ok Sono venuti in casa nostra Ok Ripeto L'obiettivo è rimandarli al loro paese Assolutamente bro E' il sud di Marona E' mostrato 3-2 1 Dai Vieni qua per vincere Comincia la seconda porzione di gioco 3-2 per l'Italia Ricordiamo che chi arriva primo a 5 reti Si porta a casa la partita Ibra Ibra il pallonetto Con l'Italia che ne esiste Grande giocata Attenzione il pallone Dall'altra parte per Pierino Che mette giù Pierino E la destro Parata strepitosa Vediamo in Baranza Che provano a difendersi con Karim Che prova ad uscire timidamente Sul numero 9 Poi Samuel la vince Il contrasto Gnappi Tiro E Gnappi E ora l'Italia È un gol dalla vittoria Il tiro centrale Dove sono i voti i cammelli Dove sono i voti i cammelli adesso Stai in mezzo Stai in mezzo Il pallone per Zaccaria Che vede l'inserimento Vediamo Karim Karim rientra Karim Il tiro E il tiro Dentro 3 Sì 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 Ballo Ancora vediamo La possibilità per Abdul che si mangia un gol già fatto Samuel C'è il libero Pierino Che riceve in questo momento Dentro del rigore Pierino Pierino Tiro dentro Pierino Con l'esterno Fa 5 a 3 E l'Italia vince Contro in Baranza Risultano tutti Siamo un'altra Siamo noi più forti Vincolo di italiani Sei vero tu fra Un saluto Dai madoshi E soprattutto Da Maurizio e compagnoni Dove sono Perché parlano Dunnel della vergogna In Baranza Adesso Qui 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 Penitenza Chiudiamo in bellezza ragazzi Col tunnel della vergogna Per i perdenti Video epico Finito male ragazzi È finita L'italiano Hanno dimostrato Di essere più forte Di Maranza No ragazzi Non voglio finire il video Con una denuncia Commentate qui sotto Il prossimo video Che volete vedere Siamo italiani Contro Maranza E noi ci vediamo Un prossimo video Se con noi Metti il pollice su Siamo i Pirlas Siamo i Pirlas Un milione su YouTube Siamo i Pirlas Siamo i Pirlas Siamo i Pirlas Siamo i Pirlas